Non rimpiango la scelta di aver fatto la camionista, rimpiango però il come ho fatto la camionista. Guidare un camion è un lavoro sfiancante e pericoloso che poche donne fanno, Raffaella è stata una di loro. La pressione dei tempi di percorrenza, orari di consegne è pressante. Raccontami cosa è successo quella mattina di 15 anni fa. Con lo sportello aperto seduta al posto di guida ho avuto un abbassamento di pressione, sono svenuta e sono caduta di sotto. Lesione midollare C6-C7, non posso camminare, non posso muovere normalmente le mani. Chi ha subito un danno del genere e vive solo con la pensione di invalidità, se possibile vorrebbe tornare a lavorare. Molti non hanno una formazione superiore e quindi restano relegati a casa. Raffaella, grazie a un progetto dell'ANMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, è tornata a studiare, perché anche se il corpo non risponde più come una volta, il desiderio di vivere una vita piena è lo stesso di sempre. Il prossimo anno dovrei riuscire a prendere la maturità. Se tutto va bene, accedere di nuovo al mondo del lavoro. Dopo tutti questi anni il camion ti manca? Camionista, una volta camionara per sempre.